Vediamo un tumulo di pietra. Così si vede la piccola. Questo è un tumulo di pietra da lì a lì. La circonferenza dovrebbe essere, non lo dico io, ma saranno 10, 20. La circonferenza secondo me saranno 50 metri. Va in fondo alla forza, ci sono molte pietre. Secondo me qua ci sono delle tonte. Sì, la maggior ragione che qui nel paiole ci fa, se non brema, abitiamo dentro le pietre. Ecco qui, vedete? Il pietrame. Cumulo di detrugio. Asparagi selvatici. Ci andiamo qui. Adesso torno a casa. Ci diciamo che da casa. Le escursioni si fanno la mattina. Spesso il periodo estivo. Non ce la fa delle ore calde. Si. Si sta bene. Sì. Sì.